Mediaticamente offuscato dal crollo della Fiorentina contro la Roma, nelle stesse ore si è consumato lo strappo nel centro-sinistra toscano in vista delle regionali di primavera, perché è stato dato il via libera alla candidatura a governatore di Eugenio Gianni da parte della coalizione, ma senza il sì della sinistra. Sinistra 2020, Sinistra Italiana e Articolo 1 hanno infatti detto no. Ma intorno al nome di Gianni c'è comunque una coalizione forte di 15 liste. Al termine di un lungo incontro del centro-sinistra concluso ieri a tarda sera, la gran parte delle forze ha infatti firmato un documento che esprime condivisione della cornice valoriale e programmatica definita insieme in questi mesi e un giudizio positivo sulla candidatura di Eugenio Gianni alla Presidenza della Regione per attuare le idee già condivise. Il documento è stato sottoscritto fra gli atti da PD, Italia Viva, Europa, PSI, Europa Verde e Toscana. Ora le forze firmatari invitano Gianni, attuale Presidente del Consiglio regionale, a incontrare subito la coalizione per iniziare insieme un lavoro sul territorio a stretto contatto con la società toscana nelle sue molteplici articolazioni. La volontà condivisa di tutte le forze che aderiscono al documento pro Gianni è quella di continuare insieme al candidato e ha fatto il confronto anche con gli altri partiti e movimenti che hanno lavorato proficuamente con noi in questi mesi. Il riferimento è ovviamente anche a quelle forze della sinistra che non hanno approvato la candidatura di Gianni. Cosa faranno le tre liste? Lo si vedrà nei prossimi giorni.